Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Come possiamo vedere dalla grafica, sul sud Italia e l'Adriatico persistono correnti più fredde orientali. Nonostante i cieli sereni, le temperature si mantengono molto basse al primo mattino e sera, soprattutto al sud e sul medio-basso Adriatico. Dal nord, invece, un vasto campo di alta pressione conquisterà giorno dopo giorno tutta la nostra penisola. Solo il sud dovrà ancora fare i conti con correnti fresche a tratti instabili dai Balcani. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 14 marzo. Al mattino, tempo prevalentemente soleggiato su entrambe le regioni. Qualche possibilità di banco di nebbia nelle vallate più interne con rischio di gelate al primo mattino e alla sera. Dal pomeriggio il cielo tenderà a diventare nuvoloso a causa di nubi alte stratificate. Escludiamo però il rischio di fenomeni. Per quanto riguarda le temperature minime, stazionarie, massime in lieve rialzo di 1-2 gradi. Venti sostenuti dai quadranti orientali, mari, mossolo, ionio e l'adriatico, molto mosso il canale d'Otranto. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo incredibile scatto della mareggiata che si è abbattuta qualche giorno fa sui bellissimi faraglioni di Sant'Andrea a Torre dell'Orso nel Salento, con raffiche di vento fino a 60-70 km orari. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sombripressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.